Noi passeremo la parola al fondatore della cooperativa Auxilium, Angelo Chiorazzo, perché come ha giustamente detto Pietro all'inizio di questo viaggio, questa è la sezione dove le persone si sporcano le mani. Qui abbiamo tre grandi rappresentanti di tre grandi istituzioni che lavorano a stretto contatto con famiglie e ragazzi, quindi a buon diritto sanno di che cosa parliamo e possono darci consigli. E Angelo Chiorazzo lavora con una cooperativa che da sempre ascolta e sostiene quelle che sono le maggiori difficoltà, che non sono solamente quelle della crescita adolescenziale, ma quelle di persone abusate, di persone abbandonate, di persone che hanno serie problematiche per affrontare la vita quotidiana. Lei che cosa ne pensa di questo periodo adolescenziale? Come trattarlo? Grazie, buonasera a tutti. Vengo subito alla domanda, ma prima voglio ringraziare Katrin Bove per l'invito. Io è difficile, mi ritrovo difficilmente a parlare perché preferisco appunto, forse ci esprimiamo meglio sul lavoro che con le parole, però ho accettato e devo fare anche i complimenti per questo titolo bellissimo, un viaggio bellissimo e pieno di insidie perché ho pensato alla mia adolescenza che è stata un'adolescenza bellissima e purtroppo piena di insidie e sono cascato in tutte le insidie che ho trovato lungo la strada, tutte. Per fortuna tranne una, la droga. Io vengo da un piccolo paese della Basilicata che si chiama Sinise, lì abbiamo avuto una grande fortuna perché a me non piace discutere se l'adolescenza era più difficile allora, oggi eccetera, il web. Cioè ogni fase ha avuto le sue grandi difficoltà, oggi ne abbiamo una particolare che è quella appunto con cui fare i conti, che è quella del web dove i ragazzi rischiano di essere più connessi ma essere soli nel loro social, vivere una solitudine maggiore. Noi invece per fortuna vivevamo in una generazione in cui era difficile stare soli ma era difficile stare soli per un colpo di fortuna, noi abbiamo avuto una di quelle realtà delle agenzie educative perché la famiglia, la scuola, gli oratori eccetera, noi a Sinise siamo stati fortunati, abbiamo avuto dei sacerdoti straordinari che ci occupavano il tempo. Perché prima ha detto Don Andrea Ciucci, ha detto una frase, starci con i ragazzi non con gli adolescenzi, io credo che sia l'unica vera terapia quella di starci con le persone e lo dicevo, mi ha fatto pensare appunto alla mia adolescenza, qui siamo in tre ragazzi cresciuti insieme, io Antonio e Franco oggi lavoriamo insieme, quindi è una vita che abbiamo fatto insieme e siamo stati fortunati in quel periodo pieno di insidie dove appunto le prendevamo tutte, le vivevamo tutte, cascavamo in tutte, abbiamo avuto la fortuna di incontrare dei sacerdoti straordinari che impegnavano il nostro tempo. Noi viviamo in un paese, l'Italia che ha avuto tra i maggiori grandi educatori al mondo, uno di questi secondo me è Don Bosco, Don Bosco diceva una frase che a me piace tanto e anche un po' quella che ci aiuta e ci ispira nel nostro lavoro. Don Bosco diceva che i ragazzi bisogna occuparli perché altrimenti si occupano da solo e certamente in idee e cose non buone. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere quei sacerdoti che ci occupavano con lo sport, ci facevano vivere una sfida sul leggere un libro alla settimana, il martedì c'era questo incontro pubblico in cui ci si sfidava a chi meglio aveva capito e chi meglio sapeva rappresentarlo. Ovviamente l'unica cosa che ci interessava era fare bella figura con le ragazze, quindi leggevamo il libro per poi raccontarlo bene. Tutto questo ci ha aiutato a crescere lontano da quelli che erano i problemi di allora. Io ho fatto 18 anni nel 91, il problema degli anni 80 era la droga. Ci cascavano tutti, noi siamo stati fortunati. La nostra generazione è stata strappata via da questo, non l'ha nemmeno incrociata perché eravamo impegnati davvero dalla mattina alla sera. Anche quando scappavamo alla famiglia o ci ribellevamo alla famiglia. Quindi questo per dire che davvero ciò che può salvare è fare rete. Noi oggi dal 99 è nata Auxilium, ci occupiamo delle fragilità, quindi dagli anziani fragili, dai malati gravi assistiti a domicilio, ai ragazzi nelle case famiglie, appunto vittime di abusi oppure vittime della povertà estrema o dei ragazzi migranti che arrivano. Quello che oggi io sento come mancanza, ecco noi abbiamo vissuto due anni questa pandemia ora che ha sconvolto tutti e i ragazzi sono stati le maggiori vittime. Io questa cosa l'ho capita un giorno che per i ragazzi la pandemia, io all'inizio pensavo no, la pandemia avendo sia case famiglie per ragazzi che RSA e case di riposo per anziani eravamo tutti concentrati sull'RSA e le case di riposo perché lì entrando il virus c'era una strage, le persone fragili il virus se li portava via. Quindi il giorno dopo quelle drammatiche immagini di Bergamo, io la mattina presto sono andato in una casa di riposo pensando di trovare tutti sconvolti. Invece ho visto gli anziani, mi hanno accolto ed erano abbastanza sereni, abbiamo visto la guerra, mi hanno detto una frase, questa cosa è peggio della guerra perché la guerra ci univa di più. La sera ci trovavamo vicino al cammino e scappavamo solo quando c'era l'allarme per le bombe ma stavamo molto più vicini. Questo ci tiene a distanza, dobbiamo stare a distanza anche tra di noi nella stessa casa ma passerà anche questa come altre. Dopo vado dai ragazzi, noi abbiamo cinque case famiglie bellissime sulla Nomentana vicino alla Luis, il protettorato San Giuseppe, vado dai ragazzi, pensate invece di trovarli tranquilli perché lì hanno un grande spazio quindi vivevano comunque all'aperto, potevano giocare a calcio eccetera, invece li trovo sconvolti, molti vengono vicini, mi abbraccio, dico Angelo, ma moriremo, moriremo, erano spaventatissimi. E quindi questa cosa poi noi dal primo gennaio di quest'anno abbiamo l'onore di lavorare al Bambi Gesù, gestiamo i servizi infermieristici del Bambi Gesù e una delle prime cose, il Bambi Gesù è un luogo, dopo parlerà il professor Villani e sicuramente parlerà molto meglio di me di quello che sto per dire, ma una delle prime cose che mi ha colpito era l'aumento dei suicidi che c'è stato, il raddoppio dei suicidi. Questa cosa mi ha sconvolto da padre anche di tre adolescenti, di 18, 16 e 15 anni. Mi ha sconvolto, visto che la Enoch, immagino che lo studio sia stato fatto dal professor Villani, la Presidente Enoch su questo si sta interrogando, su come rispondere a questo nuovo dramma. Quindi questi due anni sicuramente per gli adolescenti sono stati un dramma enorme. E mi avvia la conclusione, spesso quello che manca per gli adolescenti è la presenza dello Stato. Dico questo per una cosa, nel mese di agosto ho vissuto una giornata straordinaria. Noi quest'anno abbiamo inventato una cosa, abbiamo portato in barca a vela tutti i malati più gravi di SLA, gente che non usciva da 13 anni da casa. Vi ho detto che è giusto che vivano l'emozione più bella che si può far vivere a uno. Facciamogli fare una giornata, diciamo tra virgolette, da ricchi, perché la vela non è proprio... E abbiamo fatto questa cosa con tutti i malati di SLA che assistiamo. E poi a uno di noi è venuto in mente, portiamo anche tutti i ragazzi che assistiamo in Basilicata. E tra questi c'erano i ragazzi che noi assistiamo nel percorso scolastico, ragazzi fragili quindi o con l'autismo o altre forme di malattie che aiutiamo nel percorso scolastico, di Matera e provincia. Grazie a un uomo straordinario che si gisbondo Mancialardi, e qui so che il professore si arrabbia che lo dico, grazie al fratello del professor Mancialardi, questi ragazzi hanno potuto vivere gratuitamente una giornata unica, tutti sulla barca, eccetera. Perché dico questo? Lo dico perché alcuni di questi ragazzi è difficile addirittura fargli uscire di casa e fargli fare quello che è una cosa semplicissima, una passeggiata. Grazie a quei ragazzi straordinari del circolo velico di Policoro e agli operatori di Matera e provincia, e abbiamo fatti salire, per alcuni ragazzi con quella forma di autismo grave, è un'impresa attraversare... Per esempio uno di questi, proprio un ragazzo alto un metro e novanta di 15 anni, non riusciva a passare sulla passerella per arrivare sulla barca, alla fine dopo tanti tentativi, quando tutti stavano rinunciando, un operatore ha detto mettiamo altri pezzi di legno intorno, altre asse e l'ha fatto passare. Non vi dico le lacrime della mamma di questo ragazzo che appunto non esci di casa se non per andare a scuola. Perché ho detto questo? Perché questi ragazzi sono assistiti, lo Stato interviene per l'assistenza scolastica, ma poi dal giorno della chiusura della scuola al giorno della riapertura della scuola è un problema solo della famiglia. Quindi noi spesso sentiamo criminalizzare le famiglie, invece spesso le famiglie sono lasciate sole. Ed erano quei giorni. Perché questa cosa mi ha colpito in modo particolare? Perché erano i giorni in cui ogni mattina si apriva il giornale e c'erano le notizie sugli scandali del famoso bonus 110, dove proprio in pieno agosto sono state accertate 6 miliardi di truffe per il bonus 110 e non è stato destinato, perché spesso in questo paese dove si parla di mancanze di risorse, i soldi si buttano, ma non è stato speso un euro per esempio i ragazzi che vivono questo tipo di fragilità. E spesso quindi le famiglie lasciate sole, le associazioni lasciate sole, eccetera. Questo credo sia un grave problema ed è l'unico modo per uscirne e fare rete. Fare rete, concludo con una frase di Papa Francesco che a me piace tantissimo, che dice la civiltà di un paese si giudica da come vengono trattati gli anziani e i ragazzi. Grazie.